Il Partito Socialista, prossimo alla costituzione di un gruppo nel Consiglio Comunale di Montesilvano, non esita a chiamare sproprio la delibera della Giunta Maragno, con cui viene portata al massimo di legge l'IMU sui terreni edificabili della città. Circa 12 milioni di metri quadrati che frutteranno, secondo i calcoli fatti dagli imprenditori immobiliari, circa 10 milioni di euro di gettito aggiuntivo rispetto ai 16 complessivi dell'IMU come era fino ad oggi. Il regolamento è già in vigore ed è anche retroattivo di un quinquennio, ma sarà oggetto di approfondimento da parte del TAR per effetto del ricorso avanzato da Vladimiro Lotorio, ex capogruppo della Margherita di Montesilvano e costruttore edile. Assieme a Giorgio D'Ambrosio, a capo del PSI regionale e al Consigliere Comunale Nea D'Alonso, si è detto preoccupato per gli effetti che questa stangata avrà sui proprietari di terreni, siano essi imprenditori o privati cittadini. Io ho molta fiducia nella magistratura perché la magistratura fortunatamente vede il diritto e fortunatamente sa leggere. Temo soltanto che l'arroganza e la presunzione di questa amministrazione non consenta alla politica, e che quello mi preoccuperebbe di più, alla politica di riaprire un confronto che in definitiva non c'è stato. L'argomento è destinato comunque ad arrivare in Consiglio Comunale. Il PSI lamenta la mancata concertazione sull'argomento. Per questo, al di là del ricorso al Tribunale Amministrativo, è pronta una interrogazione diretta all'assessore competente e al Sindaco Maragno. Magari con una semplice concertazione di associazioni di categoria si poteva quantomeno avere un connubio tra il prezzo e la situazione tra macro e microzone che poteva ottemperare meglio al Comune di Montesilvano. Invece tutto ciò è stato fatto in piena autonomia dalla Giunta e quindi, a nostro modo di vedere, vogliamo correggere il tiro e in Consiglio Comunale daremo battaglia.